nel nome del padre del figlio e dello spirito santo buongiorno carissimi amici ben trovati iniziamo questa giornata aprendo il cuore perché il padre possa dare ciò di cui abbiamo bisogno e solo in lui e attraverso Gesù e nello spirito santo possiamo trovarlo padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male abbiamo abbiamo ascoltato ieri il vangelo del buon samaritano che era una parabola raccontata da Gesù per aiutare il dottore della legge a capire che cosa vuol dire amare il proprio prossimo come se stessi abbiamo anche messo in evidenza che questi briganti che spogliano l'uomo e lo lasciano mezzo morto possiamo essere veramente noi stessi sono io stesso quando mi lascio prendere dall'orgoglio dalle paure e quindi vengo bastonato da questi briganti e lasciato mezzo morto soprattutto perché mi lascio portare via dio e quando non ho più dio nel cuore sono veramente morto ecco il vangelo di oggi di marta e maria è proprio un'esemplificazione stupenda di come i briganti possono agire magari anche con la tecnica diciamo geniale dal punto di vista diabolico attraverso la quale tu pensi di essere tutto per Gesù perché fai tutto per lui ma in realtà non gli dai ciò che veramente lui ha bisogno e cioè che il tuo cuore si metta in ascolto del suo cuore questa è la forma di ospitalità più necessaria per un ospite ma anche per chi ospita ecco questi briganti fanno sì che marta sia tutta agitata ecco allora ascoltiamo la lettura dalla voce di carlos dal vangelo secondo luca in quel tempo mentre erano in cammino Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome marta l'ospito e la aveva una sorella di nome maria la quale seduta ai piedi del signore ascoltava la sua parola marta invece era distolta per i molti servizi allora si fece avanti e disse signore non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire dille dunque che mi aiuti ma il signore le rispose marta marta tu ti affanni e ti agiti per molte cose ma di una sola cosa c'è bisogno maria hai scelto la parte migliore che non le sarà tolta parola del signore lode a te o cristo il rischio quando si riceve un amico una persona in casa è quello di ospitare il suo corpo ma non ospitare il suo cuore e questo si percepisce dal clima magari un clima un po freddo impacciato con delle paure che inibiscono l'apertura la condivisione ecco provo a mettermi nei panni dell'ospite nei panni di gesù com'è che io stesso gradisco di più quando vengo ospitato nel corpo con tutte le attenzioni magari i dettagli esteriori le cose più belle i cibi più ricercati o quando magari nella semplicità o anche nella povertà vengo ospitato nel cuore proprio con il cuore di chi mi accoglie e sento che il mio cuore viene accolto ecco devo fare questo pensiero perché pensando a come io mi sentirei al posto di gesù capisco veramente come gesù si sente quando viene ospitato in questo modo ma poi anche rifletto su me stesso che sono io che ricevo che ospito gesù oppure ospito una qualsiasi persona ecco riflettendo su me stesso vedo che io mi amo veramente amo veramente questo prossimo che sono io in maniera vera quando ospito la persona ospito gesù con il cuore lo ospito nel mio cuore perché è quello il suo posto dove lui mi può amare e ho tanto bisogno di lasciarmi amare e in quel posto che è il mio cuore lì gesù può fare questa cosa che lui e io diventiamo un'unica realtà proprio come lo sposo e la sposa io sono incompleto finché non lascio entrare lui nel mio cuore io non mi amo finché non lascio che lui occupi il suo posto nel mio cuore ecco allora il rimprovero amoroso che gesù fa a marta è per noi un invito a ridimensionare quella parte della esteriorità dei bisogni materiali sì il minimo e l'essenziale va dato anche a questi ma non si può trascurare il primato dei bisogni del cuore che sono i veri bisogni i bisogni di eternità ecco non possiamo trascurare i bisogni più essenziali a scapito di quelli esteriori e materiali ecco va va rilevata va fatta una priorità una differenza una gerarchia ecco il primato la precedenza deve essere data ai bisogni dell'anima ecco e poi a quelli del corpo ora vogliamo proprio fare questa comunione con Gesù chiedendo che lui occupi quel posto che nel mio cuore c'è e che è fatto soltanto per lui vieni Gesù riempimi di te ti dono il mio cuore riempilo del tuo amore donami tutto te e con te donami le tue virtù amami Gesù fa che io ti ami con il tuo amore grazie Gesù grazie che io sono qui sono qui perché tu sei buono soltanto perché tu sei buono viene da me che io vengo da te e siamo una cosa sola amore misericordia e miseria una cosa sola il mondo ha bisogno di te amore misericordia fa che io ti porti nel mondo intero il Signore sia con voi ecco il tuo spirito per intercessione di Santa Maria e Santa Marta di Betania vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo amè diamo spazio ecco soltanto a proposito di quando dicevi Claudio che detestabile Marte perché in fondo quando uno detesta qualcosa è perché lui stesso è quella cosa no mi viene in mente un accostamento con San Francesco e sappiamo che l'episodio che è un po' il fulcro della sua conversione è l'abbraccio con il lebroso no? cioè prima il lebroso era il simbolo di ciò che lui rifiutava no? del ribrezzo verso questa questa realtà della lebra del lebroso proprio magari maleodorante veramente ributtante nella sua anche deformità e come fa ad arrivare ad abbraccialo? che cosa significa abbracciare il lebroso? ecco perché rifiutava il lebroso prima? ecco come si diceva si rifiuta ciò che si è sì il lebroso sono io perché sono ridotto così come lebroso per il fatto che ho estromesso Dio dalla mia vita io sono lebroso ma come farà Dio a ritornare nella mia vita se io non abbraccio questo lebroso non ho pietà di questo lebroso e gli insegno a riportare Dio nel cuore ecco ho voluto condividere questa cosa perché mi sembrava veramente cioè una cosa bella grazie e buona giornata a presto a domani metto un attimo di sigla non so se si sta non so se si sta non so se si sta Grazie.